La storia inquietante di quelle che fa capponare la pelle per la sua crudeltà, il giallo risolto di Anversa degli Abruzzi non ferma l'attività di indagine portare avanti da procura e carabinieri che sono arrivati a dare un volto, un nome, a quel cadavere trovato il 30 luglio di un anno fa in una grotta di Castrovalva frazione di Anversa degli Abruzzi. In particolare dopo l'identificazione del corpo senza vita e l'iscrizione nell'apposito fascicolo dei primi quattro indagati, si cerca di capire se possano esserci complici o gradi di responsabilità con eventuali concorrenti all'azione delittuosa, non un fascicolo chiuso insomma, certo è che la svolta alle indagini ha permesso di scoprire retroscena imprevedibili. I cadavere di Castrovalva e di Bruno del Negro, 81enne di Trani, ex dipendente dell'Asda Pugliese, a portarlo in Abruzzo fino a Piccolo Borgo sarebbero stati tre figli e la nuora, tutti dai 54 ai 57 anni, indagati dalla procura della Repubblica di Sulmona per soppressione di cadavere, truffa i danni dell'Inps in debito utilizzo di carta a Bancomat. Secondo quando ricostruito dal nucleo operativo dei Carabinieri dell'Aquila diretti dal tenente Tony Bocchino, l'anziano all'epoca dei fatti rallettato, incapace di provvedere a se stesso, trovato morto nel proprio letto da uno dei figli, sarebbe stato occultato in un saccappello acquistato immediatamente prima, per poi essere abbandonato lungo una stradina di Castrovalva, dove aveva percorso con l'autovettura, circa 350 km da Trani, tutto questo sempre secondo l'accusa, al fine di continuare a percepire la pensione dell'anziano padre per circa 3.000 euro al mese, riuscendo a incassare complessivamente 60.000 euro con pari danno per l'Inps. L'inchiesta è andare avanti per circa un anno, dal momento che non erano emerse denunce di scomparso sul territorio nazionale. Nell'anziano risultava schedato nel database delle forze dell'ordine, non trattandosi di un pregiudicato. L'81enne è stato quindi rendificato grazie a una protesi femorale che gli era stata impiantata nell'ospedale di Trani, poco prima del decesso. Tramite il numero di immatricolazione della protesi e i pezzi della stessa, i militari sarebbero risaliti a soggetto degente dell'ospedale, quindi al cadavere. L'attività investigativa ha permesso inoltre di ricostruire passo dopo passo gli eventi che si sono succeduti in quei giorni con l'abbandono del corpo dell'anziano nella notte tra il 26 e 27 luglio 2022. L'inchiesta potrebbe allargarsi nei prossimi giorni dal momento che procure e carabinieri stanno cercando di capire se qualcuno possa aver aiutato i quattro indagati ad effettuare il lungo viaggio con il cadavere in auto chiuso nel sacco a pelo. Nei prossimi giorni non si esclude l'estumulazione della salma per la sepoltura nel paese d'origine.